Un'analisi della situazione occupazionale nel territorio aretino, ma anche un'approfondita riflessione sul ruolo del sindacato al giorno d'oggi. Questi argomenti di stretta attualità attorno ai quali è ruotato il Consiglio Generale della CISL che si è tenuto ad Arezzo. Arezzo ha dei dati contrastanti perché da un punto di vista di addetti c'è un calo dell'1% se guardiamo le aziende che operano in provincia. Se invece guardiamo da un punto di vista di tutti quelli che abitano in provincia ma magari lavorano anche da altre parti c'è un incremento dell'1%. Quindi in poche parole che vuol dire? Vuol dire che aumenta il pendolarismo, non sarà il pendolarismo delle stazioni, sarà un pendolarismo di chi abita anche fuori e ancora risiede nella nostra provincia, però da questo punto di vista c'è un lento impoverimento della nostra provincia in termini imprenditoriali. Ci sono dei dati positivi nel settore dell'agricoltura, ci sono dati positivi nel settore alimentare, ci sono dati negativi nel settore dell'edilizia e da noi nel settore dei servizi, quelli bancari, noi abbiamo avuto una crisi grandiosa proprio perché due istituti che non sono considerati territoriali ma di fatto sono territoriali, Monte dei Paschi e Banca dell'Etrulia, abbiamo perso mano d'opera un po' in tutte queste, ed è mano d'opera diciamo di quella buona, di quei lavori che sono più ricercati. Un'occasione anche di confronto a 360 gradi tra tutte le categorie e i rappresentanti sindacali, regionali e nazionali. Possiamo dire l'Europa sta vivendo una crisi che dura da troppo tempo, siamo 7-8 anni di crisi, qualcuno l'ha paragonata alla crisi del 29, quindi siamo in una situazione molto delicata e ovviamente tutti gli sforzi che dobbiamo fare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane è quello di uscire da questa logica di creare le condizioni per aumentare gli investimenti per lo sviluppo che dà quindi occupazione. Cosa c'è bisogno? Ci sono bisogno di risorse pubbliche, fare un grande piano industriale per creare le condizioni di salvaguardare le nostre imprese e di stare sui nuovi mercati.